Nel campo delle malattie rare la collaborazione pubblico privato che noi ospichiamo in tutti i settori in questo paese diventa ancora più importante, diventa più importante per la rarità e quindi per la frammentazione e quindi per un'assistenza a pazienti che per definizione di rarità rischiano di essere soli e qualche volta abbandonati. Le aziende di ricerca hanno fatto passi da gigante nel trattamento di alcune malattie rare anche se tantissime restano ancora senza una cura ma si sta lavorando in particolare la biotecnologia promette di portare nuove terapie qualche volta addirittura risolutive quindi trasformative ai malati rari. Nel campo specifico della terapia domiciliaria dobbiamo pensare che non tutti i pazienti sono autosufficienti, non tutti i pazienti sono adulti quindi autonomi, non tutti i pazienti vivono vicino ad un centro di riferimento attrezzato. Quindi ci sono tutta una serie di impedimenti logistici anche economici che rendono la vita difficile ai malati rari, non ultimo quello di tipo psicologico. Pensiamo che laddove l'infusione deve essere fatta in centri non super specializzati per le malattie rare questa viene fatta normalmente nello stesso reparto in cui vanno i malati oncologici. Ora è chiaro che un malato raro con una patologia ben controllata si trova a dover fare le sue infusioni con dei malati che sono molto più gravi di lui e quindi dal punto di vista psicologico questo certamente non aiuta. Dove può intervenire l'azienda privata e molti dei nostri associati si sono spesi, si sono impegnanti in tal senso? Può intervenire nel supportare il pubblico e in coordinamento con il pubblico per fornire un'assistenza domiciliare che naturalmente deve essere costruita con tutti i crismi quindi con un processo molto robusto, molto solido innanzitutto di garanzia per la salute del paziente quindi di assistenza medica continua nel caso in cui nonostante il paziente sia stabilizzato possa emergere un evento avverso durante l'infusione. Naturalmente sotto il controllo del centro specialistico del medico curante che deve avallare l'opportunità di passare da una terapia ospedaliera ad una terapia domiciliare ma con un altro elemento molto importante che è quello della segregazione dei dati e cioè questo non deve essere fatto dalla singola azienda in prima persona ma deve essere fatto da un provider che garantisca nel rispetto della private e tutte le norme vigenti che all'azienda non arrivi nessun dato sulle infusioni, sullo stato di salute, sui dosaggi del singolo paziente. Questo secondo noi è un modo virtuoso per mettere davvero il paziente al centro, lo leggiamo spesso in tanti proclami, mettere davvero il paziente al centro con una buona collaborazione fra pubblico e privato.